perché nella puntata di oggi 23 novembre jessica morlacchi non è presente fra gli affetti stabili di serena bortone a oggi è un altro giorno contrariamente alle puntate precedenti che non ha mai saltato nemmeno una volta quest'oggi l'artista ex leader dei gazzosa non si è fatta vedere in studio serena bortone introducendo come sempre i suoi ospiti e i suoi colleghi non ha fatto cenno all'assenza della morlacchi salutando come sempre il pubblico facendo finta di nulla e senza dare alcuna motivazione riguardo a questo mistero a spiegare seppure in maniera molto sibillina l'assenza è stata nelle scorse ore la stessa jessica morlacchi con un paio di instagram stories nel primo contenuto condiviso online la cantante affetto stabile dell'abortone si è limitata a tranquillizzare tutti scrivendo amici tornerò da serena giovedì accompagnando il suo post con un cuoricino poche ore dopo la morlacchi si è fatta vedere ancora a letto in pigiama con il viso un poco rucciato e l'emoji che dietro la sua assenza ci sia qualche piccolo problemino di salute una risposta certa a questa domanda non c'è l'unica certezza per ora è che non è accaduto nulla di brutto e il pubblico rivedrà jessica morlacchi molto presto come sempre nel noto salotto dirà jessica morlacchi gli ultimi strascichi del caso memore migi saranno stati in tanti ovviamente a chiedersi se l'assenza di jessica morlacchi in studio potesse essere in qualche modo legata a quello che è accaduto settimane fa con memore migi come è noto l'artista 80 n si era permesso di toccare in modo inopportuno il lato b dell'artista scatenando un putiferio e costringendo la rai a risolvere il suo contratto jessica morlacchi inizialmente molto turbata aveva rilasciato nelle scorse ore una nuova intervista dove era tornata a parlare del fattaccio con toni in qualche modo più accondiscendenti parlando a diva donna l'ex leader dei gazzosa aveva dichiarato che non avrebbe mai denunciato remigi per la molestia anche perché il cantante è da lei considerato alla stregua di un nonno